Pronto? Sì, pronto Pronto? Sì, pronto Pronto, sono il capitano De Falco Parlo con Occhiuto Occhiuto Parli più forte, cazzo Occhiuto Allora, Occhiuto, si avvicini al microfono Metta una mano davanti e dica il suo nome Scandisca bene Sono Occhiuto Il sindaco di Cosenza Bene Occhiuto, lei dov'è in questo momento? Sono sul pulmanino Dalle parti di Viale Parco Che stiamo vedendo Di fare un'indonazione Delle mattonelle Viola Che magari si addicono di più Con la discesa Delle paparelle Quando uno le guarda Dalla ponte Di Mancini Senta, adesso Prendo io il comando Lasci stare le mattonelle Tutte queste cazzate Che sta dicendo Prende il pulmanino Ritorna verso Viale della Repubblica Scende dalle parti Del ponte di Mancini Quindi si porta Su Ponte Mario Martire E si ferma Palazzo Ferraro Dopodiché Da Palazzo Ferraro Scende E sale su una biscagina Su una Su una biscagina Su una chi? Bisca Biscagina Gina Biscagina Una scala Ah, una scala E va bene Vuol dire che prenderò la scala Ma per andare dove? Per andare al comune Cazzo Salga al comune Cazzo Ma per favore Non gridate Che io mi sono svegliato da poco Che siamo stati a una festa In Brasile Un'inaugurazione Di una mostra E quindi in questo momento Sono pure con il jet lag Quale jet lag? Lei con chi è in questo momento? In questo momento Io sono con il mio secondo Il secondo? Qual è il secondo? Il secondo è quello Che uno si mangia dopo il primo Faccia meno lo spiritoso Cazzo Allora adesso lei Prende il pulmanino Dov'è in questo momento? E sono a Viale Parco Gliel'ho detto Lei lasci stare Viale Parco Ritorni come gli ho detto al comune Ha capito? Chiuto Ma in questo momento Ve l'ho detto Mi sono svegliato da poco Mi fa male a capo Per piacere Io non voglio affare Il sindaco Ho capito però Lei in questo momento È il sindaco Va bene E quindi lei deve avere La responsabilità Risolvi il problema Dell'acqua per i cosentini Il problema dell'acqua? Ma perché ancora acqua Si vivono i cosentini Ma che cosa sta dicendo? Perché cosa dovrebbero bere? E chi si viva Non sa che l'acqua fa male Arruzza Per favore Io ho visto delle cose Che hanno fatto in Cina Ma quale Cina? Senta Adesso chiudo Lei mi sta facendo Veramente innervosire Io la faccio passare Io la faccio passare L'anima dei guai Ritorno immediatamente In comune Lei ce l'ha un progetto per l'acqua Riprenda il pulmino Riprenda il pulmino Sale sulla biscaggina E ritorna in comune E ci sentiremo più tardi Io le faccio passare l'anima dei guai Cazzo Cazzo Cazzo